Io conto perché sono una studentessa appassionata a tutto ciò che mi circonda. Mi chiamo Sabrina e frequento la scuola superiore di Rojano con l'indirizzo a sistemi informativi e aziendali. Sono particolarmente interessata alla matematica e all'informatica, che sono le mie più grandi passioni, insieme allo sport. La Mecha Analysis è un insieme di fondamenti scientifici e metodologici che sono suddivise in due parti metodologicamente connesse. La prima parte è una descrizione generale delle tecnologie adoperate dai sistemi più avanzati, mentre la seconda parte evidenzia l'utilizzo della Mecha Analysis. Inoltre, per arricchire la mia preparazione matematica ed informatica, seguo delle lezioni all'Università della Calabria, stabilite appositamente per noi maturandi.